E' ancora emergenza idrica nel Pescarese. L'ondata di gelo ha provocato la rottura dei contatori e un sovraccarico di consumi. Negli ultimi giorni sono stati più di 1200 gli interventi eseguiti dai tecnici dell'ACA al lavoro 24 ore su 24. La società sta attuando chiusure programmate dell'erogazione idrica su tutto il territorio di competenza. Il direttore tecnico Lorenzo Livello. Sabato 7 e domenica 8 siamo intervenuti in forza sul territorio. Ci sono state queste gelate che hanno creato rotture di contatori, anche di tubazioni. E quindi si sono creati i sovraconsumi perché chiaramente il tempo di intervenire non è stato immediato perché c'è stata anche difficoltà di poter accedere sulle vie stradali. Parliamo anche di comuni montani dove c'è stato un metro di neve. Quindi ci hanno dato un grosso aiuto anche i comuni con mezzi spallaneve eccetera. E quindi questi sovraconsumi hanno creato un abbassamento dei livelli idrici di tutti i serbatoi e stiamo cercando di compensare con chiusure programmate. Stiamo avvisando i comuni, facciamo gli avvisi anche sul sito, quindi la popolazione è un po' avvisata. Nel frattempo stiamo intervenendo in forza sul territorio per sostituire il più velocemente possibile tutti questi contatori rotti perché sono questi che stanno creando questi sovraconsumi. A creare altri disagi anche l'interruzione dell'energia elettrica che ha bloccato le pompe. Diciamo che c'è stato un problema grosso su San Giovanni Tiatino, il sollevamento di Dragonara che alimenta la parte alta di San Giovanni e Torre Vecchia. Questo ci ha creato una disfunzione elettrica, Enel, che per fortuna abbiamo installato un gruppo elettrogeno ausiliario con 24 ore di anticipo rispetto al ripristino dell'energia e siamo riusciti a far ripartire le pompe e quindi a limitare un po' i danni. La normalità la raggiungeremo, secondo me, dopo l'ulteriore eventuale gelata che si dovesse presentare, ma noi comunque siamo prontissimi per fronteggiare la cosa. Il problema grosso è la viabilità, se si creano problemi di viabilità su quello non possiamo fare nulla.